Siamo in collegamento con l'artista Stefano Trapanese che ha appena finito un progetto pittorico interessante, l'Apostolato di Trapanese, un progetto durato diversi anni durante il quale ha provato a dipingere tutti e dodici gli Apostoli di Cristo. Intanto cominciamo con il dire che è un progetto pittorico abbastanza raro perché è molto più facile trovare per esempio i quattro evangelisti o trovare anche in fase scultorea come per esempio a San Pietro ma anche in tante chiese la presenza degli Apostoli scolpiti ma nella pittura sono molto più rari i cicli che li raffigurano. Prima ancora di entrare nel dettaglio di questo progetto e di queste opere, io vorrei ricordare Stefano anche la tua tipologia di lavoro, il fatto che scegli delle vere e proprie pose teatrali, pittoriche dove gli abiti sono studiati, dove la figura è una figura reale. Paolo, innanzitutto benvenuti in casa mia in questo periodo di reclusione forzata, è una bella occasione che gli dai per presentare questo progetto. In realtà è un progetto che giustamente come dicevi parte da molti anni ormai, a che cosa mi sono ispirato? Io sono un grande appassionato del Seicento Napolitano in particolare, quindi i vari De Ribera, Massimo Stanzione, Luca Giordano e poi finirei a Francesco Solimena del quale sono un grande stimatore, ricordo che noi a Salerno abbiamo qualche opera importante di Francesco Solimena, il San Michele che uccide i giganti, che sconfigge i giganti nella chiesa di San Giorgio, che è un dipinto davanti al quale mi va a rispigliare molto spesso, più che altro per la ricchezza dei toni, dei colori. Perché l'apostolato? Perché in realtà in pochi artisti lo hanno realizzato, sono tutti del Seicento, e poi c'è il Pietro Paolo Rubens che ha realizzato un apostolato meraviglioso, al quale si potrà vedere anche dalle mie opere, effettivamente mi sono molto ispirato, mi piace il tenebrismo caravaggesco, ma in particolare il naturalismo che viene subito dopo Caravaggio, quindi proprio il Seicento napoletano. Ecco, è importante sottolineare, come dicevamo, la scelta di ritrarre dal vero i volti, ovviamente prima fai uno studio, scegli i soggetti, le persone che meglio possono avere anche, come dire, un aspetto hieratico, potremmo dire, e che possano poi vestire questi panni, è importante per dare naturalezza, i volti non sono inventati. Assolutamente no, anzi trattandosi di santi e per lo più ovviamente dei secoli addietro, cerco sempre dei modelli che abbiano un volto emaciato e una somiglianza con le rappresentazioni sacre che sono state fatte nei secoli, quindi cerco quantomeno di non inventare di sana pianta dei personaggi, quindi scelgo delle persone che mi ricordino qualcosa, a livello di opere d'arte ovviamente, li vesto, li metto in posa e mi sbizzatrisco in, evidentemente, delle cose molto particolari, quindi realizzo centinaia di fotografie dalle quali poi cerco di costruire un soggetto definitivo che è quello che mi rappresenterà il personaggio all'interno del mio dipinto. Ho cercato di mantenere stesse dimensioni per questo apostolato, perché lo immagino all'interno di una galleria, magari di un santuario, è una cosa ancora da vedere, non lo so, sono tutti di dimensione 50 di altezza per 43 di larghezza, olio su tela ovviamente, da buon seicentista non posso che non dipingere in questo modo, io sono, dicevo, un appassionato del seicento perché non solo frequento chiese e musei che in particolare hanno opere del genere, ma perché in quell'epoca, e sfido chiunque a visitare un museo e a non rimanere incantato davanti alle opere realizzate nel seicento, il vero e proprio naturalismo, ho una concezione della pittura un po' diversa, insomma, dal solito, nel senso che dico perché oggi... ...bellezze e allora cercando di sforzarmi con la mia creatività, con la mia fantasia della quale il nostro Signore mi ha voluto dotare, cerco di riproporre quelle orme del passato. Ecco, inutile dire che ovviamente si tratta di idealizzazioni e di intuizioni artistiche perché nessuno, come per Cristo, conosce i volti reali degli apostoli. Ovviamente ci rifacciamo alla storia dell'arte, i caratteri somatici dei Santi nessuno li conosce, se non quello dei Santi contemporanei, ovviamente, e quindi nell'arte per lo più ci si rifà alle scritture, ci si rifà alla morte anagrafica, quindi se San Pietro è morto a 66 anni lo si riproduce ma soprattutto ci si rifà, e questo è, come dire, anche un canone importantissimo, a quelli che sono gli oggetti iconografici caratterizzanti, il santo tramandati dalla geografia. Cominciamo proprio con l'opera che Stefano Trapanese ha accanto a sé, che in qualche modo ha iniziato questo lungo lavoro, questo ciclo pittorico dei dodici apostoli, che lo possiamo riconoscere appunto dagli attributi San Pietro. Infatti, infatti notiamo qui la chiave del paradiso, evidentemente, donatagli dal Signore. San Pietro è stato il primo papa, evidentemente, della Chiesa, ma è stato anche il primo capo della Chiesa di Gerusalemme, fatto ovviamente che poi ha generato anche una dinastia di capi della Chiesa in Oriente, perché subito dopo San Pietro, quando San Pietro appunto venne a Roma, a sostituirlo fu Giacomo il Giusto, Giacomo il Minore, e dopo dovremo realizzare ovviamente un dipinto anche di Giacomo il Minore, così di Giacomo il Maggiore e così via. C'è sempre un po' di confusione tra questi due personaggi. Giacomo il Maggiore ricorderai in Santiago di Compostela, ovviamente venerato, però da qualche parte, tempo fa, leggivo che nell'assista Santiago di Compostela è il cranio di Giacomo il Minore, che finisce per aumentare ancora di più questo stato confusionale. Ecco, ovviamente oltre ad essere stato il primo che Stefano Trapanese ha dipinto, è anche appunto il successore di Cristo, tanto è vero che il Papa in qualche modo è il successore di Pietro. Molto bello questo dipinto che hai realizzato per San Pietro con la figura del Santo che volge lo sguardo al cielo. Insistere su alcuni dettagli, come ad esempio potrai vedere questa mano così ricca e nervuruta in qualche modo. Un aneddoto legato a Pietro è quello che Pietro è stato il Papa più longevo fino a metà dell'Ottocento, del XIX secolo, perché ha regnato per 25 anni sulla Chiesa. Poi nel 1846 ovviamente il Papa Pio IX ha regnato per 32 anni e successivamente Giovanni Paolo II per altri 25. Sono i tre Papi più longevi della storia della Chiesa, una cosa che mi incuriosiva. A me piace sempre scavare anche in questi aneddoti. A me piace anche la curiosità sui nomi. Molti dimenticano, per esempio oggi Pietro è un nome diffusissimo, ma non è il vero nome di Pietro. Il vero nome era Simone, detto Pietro, che significa proprio Pietra, Petrus, perché Cristo lo soprannominò così perché aveva già intenzione di fondare su Pietro la sua Chiesa. Pietra fonderò la mia Chiesa infatti. Diciamo che ovviamente per quanto sia stato un personaggio io non posso fare la lettura del santo, io sono un pittore, non sono un teologo, però mi interessa sempre andare a studiare un po' il personaggio perché attraverso lo studio dei caratteri del personaggio ci sono alcuni caratteri che sono più forti, altri che sono più deboli. Per esempio San Bartolomeo era un carattere molto forte e allora quindi l'ho dovuto rappresentare. Adesso li vediamo mano a mano, così avrai anche un'idea. San Pietro altrettanto mi rappresenta la roccia, appunto, cioè la pietra sulla quale si fonda la nostra Chiesa. E subito dopo San Pietro... ...di rendere queste luci un po' più violente per dare questa impressione della roccia, della porta. Subito dopo San Pietro che cosa hai dipinto? Sì, subito dopo San Pietro faccio subito. Ho dipinto San Giovanni, diciamo che non sono in perfetto ordine di come li ho dipinti. Questo San Giovanni si vede bene, tra l'altro è un... il modello è un... il modello è un... è un ragazzo di Cava, che gestisce una rosticceria a Cava, cioè... amico di amici e praticamente mi... mi... così questo sguardo un po' diciamo etereo di questo... Ecco Stefano, questa... questa tua caratteristica, questa caratteristica di scegliere i soggetti tra personaggi, figure reali. Un duplice anche richiamo. Da una parte il tuo richiamo stretto, veramente coerente a Caravaggio che davvero, lo sappiamo, fino a creare scandalo, sceglieva personaggi della strada, barboni, prostitute, per chiamarli alla dignità di un quadro. Dall'altra c'è anche... dall'altra c'è anche qualcosa di Pasoliniano, come Pasolini amava appunto i suoi attori presi dalle borgate. Così adesso questo santo che viene da una rosticceria. Sì, diciamo che mi piace molto rendere scenografica il mio dipinto. Lo sguardo etereo tipico del teologo San Giovanni, che passa per essere un teologo, uno scrittore, ma sappiamo anche che Gesù lo soprannominò il figlio del tuono, quindi significa che era potente anche dell'azione. Ovviamente San Giovanni lo rappresentiamo con i suoi attributi, che sono classici, l'aquila di San Giovanni e il Vangelo che ha scritto. Questo Vangelo tra l'altro è un libro al quale sono molto legato, perché è un ricordo di papà mio, è un manoscritto del Cinquecento figurati, e quindi mi piaceva inserirlo in un contesto di questi. San Giovanni ha due caratteristiche importanti, come dicevamo, una da un punto di vista pittorico, l'altra da un punto di vista teologico. Da un punto di vista pittorico sappiamo, siamo certi della sua giovane età, era giovanissimo, infatti hai scelto giustamente un ragazzo giovane per poterlo ritrarre. Dall'altra era, qui dobbiamo spendere altre due parole, era come dire il discepolo più amato da Gesù. Gesù come tutti aveva le sue preferenze, San Giovanni era come dire l'amato. Giovanni, Pietro e Giacomo il Maggiore sono in qualche modo i santi preferiti, infatti è a lui che si mostra nella trasfigurazione, a lui e ai profeti Mosè ed Elia. In questi tre santi c'è in qualche modo la storia della chiesa, si parla di colonne della cristianità. San Giovanni in particolare nella sua rappresentazione riporta anche il rosso del martirio perché ricordiamo benissimo che anche lui è stato martirizzato. La presenza dell'Aquila invece lo ricordiamo perché i quattro evangelisti avevano ciascuno un animale per essere riconosciuti, l'Aquila e di San Giovanni. Sì, 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 infatti il bue evidentemente di San Luca, ma San Luca era anche il primo pittore della storia, si dice, cioè colui che ha riprodotto l'immagine della Madonna su tela, in realtà è solo tradizione, non sappiamo se poi è vero. E poi c'è evidentemente il leone di San Marco e l'angelo di San Matteo. Queste sono le quattro rappresentazioni che solitamente vediamo nei pennacchi delle nostre chiese. Passiamo al prossimo quadro. Adesso passiamo al San Giacomo Maggiore, quindi restiamo in tema, un tema dei prediletti evidentemente. San Giacomo Maggiore, la rappresentazione classica è quella del pellegrino. Il pellegrino come si rappresenta? Con il cappello del pellegrino, la conchiglia e diciamo si rappresenta anche attraverso uno stendardo. In questo caso io ho messo questa canna con la zucca che in realtà è una borraccia. Veniva usata la zucca dai pellegrini essendo vuota come borraccia dell'acqua. Perché la conchiglia? Perché la conchiglia funge da bicchiere, quindi calandosi sull'acqua di una sorgente si può bere tranquillamente attraverso la conchiglia. Ricordiamo che io tra l'altro ho avuto modo anche di realizzare un dipinto del battesimo di Cristo e la conchiglia viene anche usata da San Giovanni Battista per battezzare il nostro Signore. Quindi insomma è uno dei singoli importanti della cristianità. Inutile dire che San Giacomo è molto molto amato ancora oggi, venerato ed è uno dei santi come dire anche amati dai laici, persino dai non credenti perché ogni anno sono milioni coloro che fanno il cammino di Santiago per arrivare a piedi dopo un lungo tratto nel santuario di Compostela. Sì, diciamo che resta ancora questo forte culto, un culto sempre molto fervido, molto attivo in Spagna, anche se il suo martirio non lo ha subito in Spagna dove si recopere l'evangelizzare, ma bensì in Palestina credo che fosse stato decapitato, anzi ricordo che è legato anche un episodio, praticamente il prefetto della Judea che lo condannò a morte tornato dalla Spagna, appunto lo volle decapitare e lungo il tragitto verso il patibolo San Giacomo fece un miracolo, compie un miracolo, praticamente sanò un paralitico il quale per ringraziarlo volle essere battezzato e San Giacomo sul patibolo chiese come l'ultimo desiderio di essere fornito di un catino pieno d'acqua col quale battezzò questo paralitico che aveva appena sanato e purtroppo però pilirono per essere decapitati entrambi addirittura, questo è un aneddoto legato al martirio di San Giacomo che tra l'altro era, San Giacomo il maggiore, che tra l'altro era il fratello di Giovanni, il fratello di Giovanni Evangelo, perché ci sono molti rapporti di parentela tra gli apostoli, abbiamo San Giuda Taddeo, fratello di San Simone il cananeo e fratello assolta di San Giacomo il minore, così come San Pietro e Sant'Andrea, anche loro sono due fratelli pescatori. È molto interessante vedere come queste famiglie si sono legate attorno alla figura del nostro signore. Andiamo avanti con il ciclo pittorico dei dodici apostoli dipinti da Stefano Trapanese e dopo San Giacomo Maggiore vedremo sul cavalletto la figura amatissima del nostro San Matteo. Il nostro Matteo, il nostro Matteo che ovviamente ho rappresentato nella sua rappresentazione classica e cioè con l'angelo. Il San Matteo è lo stesso modello del San Pietro, si noterà una certa verosunzianza, si tratta di un pediatra molto noto a Salerno oggi in pensione, insomma Felice Chiumiento che saluto caramente come sempre, anche il bimbo è un figliolo di un'amica. In questa rappresentazione ovviamente ho preferito il Vangelo evidentemente davanti a San Matteo che in qualche modo viene investito di tanta saggezza dall'alto dei cieli, quindi in qualche modo l'angelo non è come il San Matteo del Caravaggio dove l'angelo praticamente chi detta letteralmente insomma il Vangelo. Qui vorrei dire due cose per Stefano Trapanese che ovviamente non lo dice per la destia, però la prima è quella, vorrei concentrarmi sulla dolcezza di questo angelo bambino, sulla sua tenerezza, di una tenerezza infinita che ha scelto per raffigurare, per iconizzare questo San Matteo. La seconda vorrei ricordare che un San Matteo di grandissimi dimensioni nella cattedrale di Salerno, nella navata sinistra, è una scena tra l'altro poliedrica dipinta con un teatro di posa barocco seicentesco realizzato ad hoc nella sala di Santa Pollonia prima di dipingere questa tela enorme. Si, si portai questi due personaggi, questi due modelli all'interno di quella chiesa, ebbi la chiave di questa chiesa dal nostro amico che purtroppo è venuto a mancare e al quale rivolgiamo spesso il nostro pensiero, Peppe Natella, che essendo il direttore della bottega San Lazzaro, aveva in concessione l'utilizzo di quegli spazi purtroppo sconsacrati da tanti anni. Ciò nonostante all'interno di quel bellissimo spazio c'era un altare di una bellezza straordinaria secondo me, nell'abside di questa chiesa, perché riportava i classici simboli del barocco, cioè il ricciolo sotto alle colonne, ed ecco che è nata così l'ispirazione, in particolare all'interno della stessa chiesa c'era anche un tavolaccio davvero di quell'epoca, capito che è in pieno stile barocco, anche baranzo antico, vecchiotto, abbandonato, perché non usare questi elementi? Qualche altro elemento lo portai io, i modelli li portai io, mi insieme alla scena e realizzai questa cosa che poi ho regalato alla città di Salerno, parliamo del 2011 e credo che sia stato un getto che al di là del fatto meramente artistico mi ha donato la grande opportunità di rendermi utile per la mia comunità, che è una cosa che io, forse Paolo ricorderà, io ho fatto anche dell'associazionismo fino a qualche anno fa, cioè mi preoccupava della riattivazione della metropolitana e di altre opere che si stanno realizzando nella nostra città, mi piaceva rendermi in qualche modo utile per i cosperi della nostra città. Anche perché Stefano Trapanese è veramente specializzato nell'arte sacra, ricordiamo anche le dimensioni della tela di San Matteo che si trova nella cattedrale di Salerno. Sì è un 2,40x180, ma a me piace tantissimo realizzare opere di quelle dimensioni e anzi Paolo non ti nascondo che questo apostolato che presenterò in autunno, nel prossimo autunno, augurandoci che tutto vada bene ovviamente, quindi avere questa opportunità, presenterò alla città all'interno del Duomo di Salerno, nella Sala Santo Maso, grazie al Paso con Don Michele Pecoraro che mi vuole ospitare e voglio presentare anche un'opera di grandi rifiuti che sto in qualche modo studiando, sto elaborando. Quindi questo è un anticipo come un anticipo è un'anteprima a tutto ciò che stiamo vedendo e dopo San Matteo vediamo sul cavalletto un altro degli apostoli di questo ciclo di 12 soggetti e andiamo a rappresentare Santa Andrea, fratello di Pietro, quindi pescatore con Pietro ovviamente e si nota poco, non mi piaceva metterla molto in risalto, la cosiddetta croce decussata perché ricordiamo tutti che Santa Andrea è stato martirizzato su una croce a X e infatti da allora noi diciamo croce di Santa Andrea, questa croce che ha questa forma strana, questa forma X, pescatore quindi si rappresenta anche con la rete del pescatore e ovviamente un telo che ci rammenta sempre il martirio. E qui consentimi Stefano di unire ancora questa tua straordinaria tela che raffigura a Santa Andrea qualche considerazione, il fatto innanzitutto che tre apostoli, lo ricordiamo c'è anche un libro bellissimo, tre apostoli per una regione, tre dei dodici apostoli di Cristo, tre dei fidatissimi amici di Gesù sono sepolti nella nostra regione. San Matteo a Salerno, Sant'Andrea ad Amalfi e San Bartolomeo a Benevento. Per Sant'Andrea oltre al fatto che ne abbiamo due in provincia di apostoli di Cristo, San Matteo e Sant'Andrea, dovremmo ricordare anche la specularità, la similitudine estrema tra le due cripte, quella di San Matteo a Salerno e quella di Sant'Andrea ad Amalfi perché sono veramente due gemelle. Qui hai scelto un soggetto più anziano per Andrea? Sì, ho scelto un soggetto più anziano perché anziano è rappresentato all'interno del cenacolo di Leonardo. Andrea, come già penso di averti detto, molti pittori per dipingere gli apostoli si rifanno come modello al cenacolo di Leonardo, una sorta di evitare errori, insomma, per lo sbagliato. E quindi in qualche modo ho trovato una sorta di somiglianza tra quello di Leonardo e il mio amico Giovanni De Vivo che si è prestato per questa scena. E da questo bellissimo Sant'Andrea? È stato martirizzato a trasso, leggevo da qualche parte, e solo con la quarta crociata che ha portato ad Amalfi il corpo di Sant'Andrea. Però c'è stata sempre questa sorta di sacco compiuto dai crociati, soprattutto per ciò che riguarda le reliquie sante, al punto che negli anni Sessanta del Novecento Papa Paolo VI volle rimediare in qualche modo a questo furto, mandando il cranio di Sant'Andrea a patrassi, quindi nella chiesa di Sant'Andrea. E qui in verità Stefano c'è anche un altro motivo in questo dono del Papa, e cioè che Andrea come Matteo è veneratissimo nella chiesa ortodossa. Quindi voglio dire anche un ritorno al discorso ecumenico. Andiamo avanti perché il tempo stringe e cambiamo il quadro, passiamo da Sant'Andrea al prossimo apostolo dipinto da Stefano Trapanese. Questa è una persona che mi manca molto in questo periodo. Si tratta di Sant'Ommaso, mi manca molto perché è il mio parrucchiere. Ovviamente di questi tempi ce ne sarebbe tanto bisogno di Paolo, è un ragazzo di Gala sempre, il quale ovviamente gli attributi iconografici del Sant'Ommaso sono il dito dell'incredulità e lo squadro dell'architetto, perché è il patrono di geometri architetti. Poi c'è anche questa sorta di libro perché lui ha scritto molti libri e addirittura si fa risalire a lui anche un Vangelo apocriso, cioè noti conosciuti dal canone. Ho voluto simboleggiare questa mano che ovviamente è idealizzato Cristo in questa mano, in qualche modo vuole fermare questo gesto, però Tommaso è un po' lo specchio di tutti noi, c'è una persona non ipocrita che mette a nudo le sue emozioni, non crede se non mette il dito, se non tocca il costato di nostro Signore. È come siamo un po' tutti affazzolata, invece dovremmo essere meno Tommaso e probabilmente più attenti. Proseguiamo con il ciclo pittorico, lasciamo Sant'Ommaso per un altro degli Apostoli di Stefano Trapanese. E vediamo quindi San Bartolomeo, come dicevamo prima che è stato anche citato come uno dei tre Apostoli nella nostra Campania, sepolto a Benevento, tre Apostoli una regione. Proseguiamo quindi con il San Bartolomeo di Stefano Trapanese. Filippo, praticamente lui ebbe questa notizia dell'arrivo del Messia proprio da Filippo, che vedremo dopo nella prossima rappresentazione, e in qualche modo anche lui fu un po' incredulo, lui abitante tra l'altro di una città vicina a Nazareth che si chiama Bezaida e c'era un po' di campanilismo tra le due città, infatti lui pensava che da Nazareth non potesse generare un Messia, quindi un po' questa sorta di campanilismo tra le città, era una città molto vicina a Bezaida e a Nazareth parliamo di pochi chilometri, di pochi chilometri, di pochi chilometri, e quindi questa è una cosa un po' particolare. Ovviamente il pugnalo perché il suo martirio ha subito forse uno dei martiri peggiori, e cioè scuoiato letteralmente vivo dai Romani. Il prossimo Apostolo? Ed eccolo qua, è proprio Filippo del quale parlavamo poco fa. San Filippo, che ho rappresentato con il suo Vangelo apocrifolo stesso, anche Filippo ha scritto un Vangelo, e non so se si vede, insomma si noterà molto poco, c'è un ciondolino con una croce all'incontrario, perché caratteristica di San Filippo è quella che volle essere crocifisso come nostro Signore, ma a testa in giù, perché lui non era degno di poter subire lo stesso martirio di Gesù, ma avrebbe dovuto subire di più di nostro Signore. Quindi, insomma, questa è la presentazione, parliamo di Nicola Augusto, che proprio in questi giorni ha compiuto qualcosa come 94 anni, questo Signore. È una persona svelta, sveglia, bellissima. Lasciamo San Filippo per passare ad un altro Apostolo di Stefano Trapanese. Un personaggio che è abbastanza noto a Salerno, questo si tratta di San Simone il Cananeo, abbastanza noto a Salerno perché in realtà parliamo di Matteo Cantarella, che è professore di musica, è uno dei musicisti del gruppo I Castellani di Giovi, che poco fa ho visto proprio su Teleidioce, su una trasmissione dove c'era la nostra vice sindaca Eva Rossa, che sappiamo essere una Presidente onoraria dei Castellani di Giovi in qualche modo. Il San Simone Cananeo si rappresenta con la sega perché anche lui ha subito un martirio molto cruento, molto violento, fu letteralmente fatto a pezzi dai Romani. Perché un martirio così cruento? Perché in realtà San Simone il Cananeo, anche detto lo Zelota, laddove gli zeloci erano i fondamentalisti armati contro i Romani. Ed ecco che in qualche modo, ecco perché ha subito un martirio così violento da parte dei Romani stessi, che si volevano evidentemente rivendicare nei confronti di San Simone. Lasciamo San Simone. E dopo San Simone Cananeo andiamo avanti con quale santo del ciclo di Stefano Trapanese? Infatti non lo sono messo ancora in lucido, è ancora fresco. Parliamo di San Giacomo il Minore. San Giacomo il Minore che ho rappresentato con il papiro perché è nota la lettera di Giacomo che viene letta come omelia nelle assemblee e riporta una dicitura in greco che io mi sono anche segnato, approfittando di avere un figliolo che studia lettere classiche, anzi laureato in lettere classiche, e una dicitura greca che riporta utos cai e glossa micron melos estin cai megala aukei. Così anche la lingua piccola anese è capace di grandi cose. Questo è il papiro e poi è stato ritrovato, un papiro risalente al 50 d.C., quindi effettivamente ci siamo, dovrebbe essere addirittura un originale. E poi la mazza chiodata, il bastone chiodato, infatti lui è il patrono dei cardatori, quelli che cardano la lana, perché in realtà fu gettato da una rughe, lapidato, non morto, inginocchiato a pregare, lo finirono con questo bastone, con questa mazza. E andiamo avanti, l'ultima rappresentazione che ho realizzato è quella del nostro San Mattia, dove San Mattia è l'apostolo estratto a sorte, infatti ed ederunt sortes eis cecidit sorts super Mattiam, cioè la sorte decisa su Mattia. Fu molto caldeggiata questa candidatura da San Pietro, del quale era amico, e lo strumento del martirio è questa ascia, anche se tradizione vuole e vuole che sia questa ascia, ma molto probabilmente non ha conosciuto una morte violenta. Ecco Stefano, qui dobbiamo ricordare però che va a sostituire Mattia giù da Iscariota, giù da il traditore, che appunto guarnisce le fila dei dodici e quindi prende il posto di Giuda, che poi sappiamo anche nel suo pentimento si suiciderà. Infatti immaginiamo questa sorta di sorteggio tra due candidati, perché in realtà erano due candidati, mi pare che l'altro fosse Giuseppe, uno dei discepoli ovviamente di Cristo, quindi Giuseppe e Mattia, alla fine fu sorteggiato Mattia in sostituzione del suicida giù da Iscariota, perché della città di Iscariota e resta l'ultimo da realizzare che è questo qua, il San Giuda Saddeo, ho già idea di chi utilizzerò come modello, pur non avendo la possibilità di farlo venire fisicamente qui nel mio studio, però ho realizzato già delle fotografie in passato, quindi mi servirò un po' di volti già fatti, altrettanto di vestizioni già realizzate, metterò su una scena in pieno coronavirus, nonostante non avere la possibilità di averlo davanti a me, però già ho idea di come verrà. Noi ringraziamo Stefano Trapanese, questa anteprima vi abbiamo proposto l'intero ciclo pittorico dei dodici apostoli, l'apostolato di Trapanese che verrà, ci auguriamo in tempo a San Matteo per la festa patronale nell'atrio del Duomo, nella sala Sant'Maso, verrà esposta proprio nell'ambito dei festeggiamenti patronali. Questi dodici apostoli confermano anche l'arte di Stefano Trapanese, la sua specializzazione nei cicli pittorici di arte sagra, ci sono tante chiese del territorio che vantano un'opera di Trapanese, in primis la chiesa madre, la cattedrale di San Matteo, come abbiamo ricordato, che custodisce un grande San Matteo, una tela enorme di 2,40 m. Ho anche un'altra opera di grande dimensione a Salerno, ed è una discesa dello Spirito Santo nella chiesa di San Paolo, al rione Petrosi, è un dipinto di grande dimensione, 3 m per 2 addirittura, queste sono le due opere pubbliche che ho in mostra permanente a Salerno, però poi ne ho tante sparse nel Cilento più che altro, dove resiste una forte fede da parte dei abitanti di quei posti e quindi anche l'azione in qualche modo di catechesi che svolgono questi dipinti, che non è da sottovalutare Paolo, oggi credo che sia una cosa abbastanza importante, hai visto come interessante andare a scavare negli attributi iconografici, ad esempio dei Santi Apostoli, credo che sia un qualche cosa davvero poco conosciuto, perché non farlo vedere ai nostri concitti? Ed è stato proprio questo il nostro intento, noi ti ringraziamo e dopo quest'anteprima avremo la possibilità appunto a settembre di vedere dal vivo queste tele, i 12 Apostoli di Stefano Trapanese.